Se pensavi che i problemi fossero finiti, se credevi che le sorprese fossero terminate, ti sbagliavi. Ci sarebbe un ritocchino sull'affitto. BNL Gruppo BNP Paribas presenta Mutuo BNL Revolution. L'unico fino a 40 anni, fino al 100% del valore. L'incubo dell'affitto è finito. E tu, cosa aspetti? E tu, cosa aspetti?